appena arriva l'estate sappiamo che con essa si ripresenta il tormento maggiore di questa parte dell'anno ovvero sia la zanzara tigre con la quale conviviamo un po' tra il rassegnato ed il combattivo importata nel mondo occidentale dall'asia probabilmente attraverso il commercio di copertoni usati la zanzara tigre si è diffusa negli ultimi vent'anni abbondantemente sia negli stati uniti d'america che in europa arrivando a costituire un serio motivo di preoccupazione sanitaria e ambientale la riconosciamo e distinguiamo dalla zanzara comune grazie al corpo nero e bande traversali bianche sulle zampe sull'addome da cui il nome tigre è presente in gran parte d'italia soprattutto nella parte del nord est ma anche nell'italia centrale e nelle regioni adriatiche costiere e purtroppo l'italia è da tempo il paese più colpito d'europa a questo aggiungiamo che la diffusione della zanzara tigre è tipicamente urbana non la si trova nelle aree rurali proprio per la sua propensione a deporre le uova in piccole raccolte d'acqua la strategia di lotta quindi messa a punto dalle istituzioni sanitarie e dai comuni si concentra soprattutto sull'individuazione e distruzione dei focolai larvali e sulle campagne di informazione al cittadino e ovviamente anche le campagne di disinfestazione delle aree verdi pubbliche come presto verrà fatto nel comune di Fano attraverso una ditta incaricata procederà un primo intervento di disinfestazione in tutti i giardini pubblici della nostra città l'intervento inizierà indicativamente intorno alle 23 e 30 di questa sera e si concluderà domani mattina intorno alle 4 è possibile consultare sul sito istituzionale comune.fano.pu.it non solo l'ordinanza sindacale ma anche l'elenco di tutte le aree quartiere per quartiere che questa sera saranno interessate da questo intervento l'intervento verrà realizzato con un preparato a base di piretroidi a basso impatto ambientale e verrà riproposto ogni 15 giorni fino a settembre. Ecco ci sono delle accortezze delle avvertenze che è giusto che i cittadini sappiano? Sì quello ad esempio di non utilizzare domani le verdure dell'orto o quantomeno di lavarle molto bene di lavare eventuali arredi o giochi esterni di tenere dentro casa i propri animali domestici in realtà come dicevo i piretroidi sono a basso impatto ambientale ma ci sono una serie di precauzioni che per cautela noi comunque consigliamo sempre. Si troveranno anche le strade le vie di passaggio i luoghi interessati quindi anche questo è utile? Assolutamente sì ci sarà l'elenco suddiviso quartiere per quartiere di tutti i giardini parchi e aree attrezzate di verde pubblico che questa sera verranno interessate.